Risultati eccellenti per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Francesco Giorgio di Licata, diretto dal professor Vincenzo Pace, che hanno sostenuto nei giorni scorsi le prove d'esame DELF A1, DELF A2 e per la prima volta riservato agli alunni delle classi quinte dell'elementare il DELF Prim A1.1. La scuola media è l'unica a Licata a proporre già da diversi anni, nell'ambito della propria offerta formativa, un corso finalizzato all'acquisizione del diploma di studi in lingua francese, rilasciato dal Ministero dell'Education Nazionale Francese. Questo diploma, riconosciuto ufficialmente a livello internazionale, attesta il conseguimento di competenze linguistiche comunicative attraverso prove certificate da un'agenzia qualificata sulla base dei livelli definiti dal quadro europeo comune di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa. Come in passato, tutti gli allievi esaminati quest'anno dall'esperta madrelingua francese Lidia Torregrossa, incaricata dall'Institut Français de Palerme de Sicile, hanno dimostrato di fare con la lingua in maniera ottimale. E così sono 27 gli alunni che hanno superato le prove d'esame. Hanno superato il DELF A1, Francesco Bellavia, Salvatore Bennici, Margaret Cavaleri, Flavia Graci, Giovanni Grillo, Diletta Benedetta Laplaca, Daniele Angelo Marrali, Aurelia Militello, Carla e Maria Pia Monachino. Hanno superato il DELF A2, Beatrice Maria Brancato, Silvia Catania, Francesco Cosentino, Gloria Grillo, Daniele Inzalaco, Gaia Luss, Adele Malfitano, Pietro Alberto Nicastro e Angelo De Marco. E infine hanno superato il DELF Prim A1, Filippa Cappadonna, Marta Burgio, Francesco Norio, Alessandro Marco Scala, Valerio Todaro, Alessandro Mancuso, Dennis Antonino Incorvaia ed Elisa Casa.